Solo pianti per la madre romena chiamata a spiegare in commissariata comiso quanto accaduto martedì scorso quando intorno alle 15 trovò suo figlio di soli nove mesi senza vita all'interno della propria culla. Per tutta la giornata di ieri sia lei che il suo attuale compagno tunisino, il marito si trova in carcere, sono stati sottoposti ad un interrogatorio fiume che però ha lasciato ancora il caso avvolto nel mistero. Da capire cosa è accaduto durante l'intera mattinata di martedì. La madre avrebbe allattato il figlio l'ultima volta alle 4 di mattina e stava bene. Poi la scoperta della morte avvenuta ben 11 ore dopo. Cosa sarebbe accaduto in quelle ore? Com'è possibile che il bimbo sia rimasto solo per tutto questo tempo e nessuno si sia accorto di nulla fino alle 15 quando proprio la madre e chiamò il 118 in lacrime dicendo che il proprio bimbo non respirava più. Nessuna poppata, niente cambio di pannolino e soprattutto nessun controllo per 11 ore di fila. Un caso che quindi necessita di ulteriori accertamenti e dettagli che solamente l'autopsia disposta dal tribunale di Ragusa potrà fornire. Il corpicino del bambino già affetto da una malattia congenita è stato trasferito al policlinico di Catania in attesa dell'intervento dei medici che faranno luce sulla causa del decesso. La madre intanto ha solamente detto che l'avrebbe trovato così già morto. Da capire quindi se si tratta di fatalità legata a un soffocamento in culla o un rigurgito oppure se si sia verificata violenza dato che il bambino è stato trovato con un braccino rotto anche se al momento non c'è certezza se sia avvenuto prima o dopo la morte. La casa intanto rimane sotto sequestro.